Negli ultimi giorni si è scatenata una controversia sui social riguardo la manutenzione di un aereo di Ita Airways, la compagnia aerea italiana. L'ex deputato e presidente della regione Mauro Pili ha pubblicato un post, un video, in cui accusava che l'aereo fosse stato rattoppato e che fosse in condizioni non accettabili per i passeggeri. Tuttavia, sempre nel suo profilo, è intervenuto un ingegnere aeronautico, Francesco Sabuzzi, che ha smentito questa affermazione, mettendo in luce alcuni fatti tecnici. Secondo l'ingegnere Sabuzzi, il rattoppo dell'aereo è una procedura prevista dal manuale di manutenzione del costruttore per danni su pannelli in materiale composito. Questa pratica è ampiamente utilizzata in tutto il mondo aeronautico e autorizzata dalle principali organizzazioni aeronautiche, inclusa la FAA americana. Viene impiegato un nastro speciale chiamato High Speed Tape, fatto di alluminio, resistente al calore, alle fiamme, ai solventi e ai reagiti ulteriori retti. Un rotolo di questo nastro costa 39 dollari e viene anche utilizzato dal United States Air Force. L'intervento manutentivo era quindi necessario per far fronte temporaneamente a un danneggiamento riscontrato su un pannello dell'aereo, in modo da garantire la massima sicurezza durante il volo. Durante la risposta dell'ingegnere Sabuzzi, anche Itar Ways ha replicato, mandando comunicato ai giornali, confermando di rispettare tutti gli standard di sicurezza che il 2021, scritto sulla livrea dell'aereo, si riferisce alla nascita di Ita e non alla data di fabbricazione dell'aereo, come invece aveva ironizzato l'ex presidente della regione Sardegna. La controversia quindi sarebbe stata risolta con i fatti tecnici, in quanto appunto l'ex governatore regionale era stato smentito per la sua mancanza di conoscenza in materia aeronautica. Però poi l'ex presidente è intervenuto con un ulteriore video dove, se ci permettete, il taccone è peggio del buco. Grazie a tutti!